Dopo il grande successo della prima edizione The Voice Senior è tornato in TV. Al timone del programma ancora una volta Antonella Clerici mentre i quattro coach sono, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Orietta Berti. Nel corso della prima puntata, andata in onda su Raya 1 venerdì 26 novembre, tutti sono rimasti colpiti dalla storia del concorrente Walter, che ha poi scelto di entrare in squadra con la Bertè. Walter Sterbini, 66 anni, è approdato a The Voice Senior per avere la sua seconda chance nel mondo della musica dopo tanti anni da commerciante. L'uomo non ha avuto una vita facile e ha dovuto mettere da parte le sue aspirazioni personali per seguire la crescita del figlio Matteo, nato con una malformazione congenita, la spina bifida. Il ragazzo ha accompagnato il padre dietro le quinte della trasmissione Rai. Ad Antonella Clerici Walter ha confidato davanti alle telecamere, rimpianti non ne ho, ho fatto la vita che volevo fare, anche se non sono riuscito a diventare un cantante professionista. Mio figlio Matteo è il mio coach, il mio impresario. Mio figlio Matteo è il mio coach. Grazie a tutti